Questa non è un'operazione personale, ma è una grande operazione di mobilitazione. Vuole essere una grande operazione di mobilitazione dell'Italia che studia, che lavora, che fatica, che produce e che non ne può più di essere costretta a scegliere il male minore, perché poi alla fine questo è il punto oggi. Nessun grande paese europeo è nella condizione di dover scegliere tra populisti o sovranisti. Nessun grande paese europeo, i grandi partiti appartenenti alle tradizioni del popolarismo, della socialdemocrazia e della liberaldemocrazia si sono messi, sottomessi a populisti e sovranisti e azione nasce per questo. In Italia non c'è bisogno di un nuovo partitino e se questo sarà un partitino avrà fallito la sua missione e si scioglierà non partecipando alle elezioni. Questo deve essere un grande spinta a creare un movimento e a riportare i partiti riformisti nell'alveo di quello che è in tutta Europa. Il riformismo che sia liberale, liberaldemocratico, popolare. Quindi questo è il principale obiettivo. Perché? Perché non c'è. Non c'è oggi. Ovviamente azione parla e vuole parlare con tutti i movimenti che sono collocati nell'area liberaldemocratica e liberalprogressista. Se c'è una cosa che io non sopporto sono i partiti il cui nome è scelto per ragioni di marketing. Il nome è la radice culturale che si porta in politica. E per noi la radice è semplice. È la radice del liberalismo sociale del partito d'azione e alla stesso tempo è la radice del popolarismo liberale di Sturzo che non per niente sono culture politiche che in Italia non sono mai riuscite a diventare maggioranza perché sempre schiacciate dalle battaglie ideologiche. Prima comunismo-anticomunismo, oggi sovranisti e populisti. Questa roba va spezzata perché se no il Paese continuerà a essere semplicemente ostaggio di opposte tifoserie. Per cui le persone non votano perché convinte, ma votano perché non vogliono l'altro. Noi andiamo così avanti da decine di anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.